La seconda edizione dell'ETIC, abbiamo oggi a Washington, all'Ambasciata Italiana, il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, nonché Presidente della Conferenza Stato e Regioni, Massimo Fedriga, che ci spiega i motivi di questo intervento qui in ambasciata. Abbiamo iniziato a costruire da diversi anni un percorso per intensificare i rapporti e le opportunità tra Stati Uniti e Italia. Come conferenza delle Regioni abbiamo siglato un protocollo insieme al TIC per agevolare investimenti reciproci e poi anche con una visione molto chiara di assetto e strategia politica che deve vedere il nostro Paese, gli Stati Uniti e la relazione transatlantica come asse fondamentale anche in prospettiva. Le tensioni globali che stiamo vedendo mettono a repentaglio tutte le nostre filiere produttive, soprattutto quelle strategiche, e dobbiamo dare risposte come istituzioni in grado invece di mettere a riparo il mondo dell'impresa, il mondo del lavoro che traduce poi il mondo dell'ilbertà per i nostri Paesi. Dopo Washington lei sarà anche a New York per un giro di incontri istituzionali compreso con l'ambasciatore italiano all'ONU Massari. Quali sono le tappe di questo suo viaggio americano? Ecco diciamo che dopo Washington New York ha un profilo più business, diciamo quindi meno istituzionale, incontrerò imprese e fondi di investimento per presentargli il sistema Italia, in particolar modo ovviamente Regione Friuli-Venezia-Giulia come opportunità di investimento. In questo momento la mia regione vedo una forte crescita di investimenti internazionali, tanto vedo che seppur rappresentiamo il 2% della popolazione abbiamo il 6% degli investimenti stranieri in Italia e soprattutto è un territorio che offre l'opportunità non soltanto del mercato interno ma di tutta un'area geografica europea, quella del sud ed est Europa, che può risultare veramente importante anche in considerazione della crisi russo-ucraina che chiude dei mercati ma apre nuove opportunità anche per il Friuli-Venezia-Giulia e per chi vuole investire in quell'area geografica europea.